I carabinieri della Compagnia Palermo San Lorenzo hanno eseguito allo Zenne 2 un'ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di quattro minori, ritenuti responsabili tra l'altro di più reati contro il patrimonio. I provvedimenti scaturiscono dalle indagini coordinate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e condotte alla stazione Carabinieri di Palermo San Filippo Neri. L'attività di indagine, frutto del monitoraggio della criminalità predatoria nel territorio, ha permesso di ricostruire dettagliatamente ben 12 furti, trattentati e consumati tra novembre 2017 e aprile 2018, in danno di numerosi negozi di un centro commerciale. I militari, sulla base di alcuni delitti commessi all'interno del Conca d'Oro, hanno iniziato a raccogliere tutti gli indizi e ricomporre i singoli fotogrammi dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza installati nei negozi. Le dinamiche oggetto di osservazione hanno fatto emergere come le illecite attività fossero il risultato di una fitta relazione tra gli indagati che, con scaltrezza ed estrema disinvoltura, riscontrata proprio dalle modalità operative, mettevano a segno i colpi anche più volte anche nello stesso giorno. A svelare il comportamento dei quattro minorenni, tutti di età compresa fra i 15 e i 17 anni, residenti allo Zen 2, è stato il riconoscimento effettuato dai militari della stazione San Filippo Neri, che si trova proprio all'interno del quartiere, che, visionando attentamente le registrazioni video delle telecamere, hanno identificato i quattro giovani. La baby gang, utilizzando una modalità consolidata ed abituale, prima procedeva a rompere i dispositivi antifurto applicati sui giubbotti esposti e poi, dopo averli indossati, usciva di fretta dal centro commerciale. Per uno di loro è scattato il collocamento in comunità perché, nonostante sia stato individuato e fermato dalle forze dell'ordine, ha continuato ugualmente a commettere i furti. Per gli altri tre, il GIP del Tribunale per i minorenni ha emesso l'incisiva misura cautelare dell'applicazione di prescrizioni per la durata di due mesi, come non uscire di casa prima delle otto e rientrare entro le venti, non frequentare soggetti pregiudicati o ambienti a rischio di devianza, non fare ingresso nel centro commerciale o in grandi magazzini in Palermo e provincia.